Questa cosa ho tenuto dentro di me, che lascerò calcio, non ho detto a nessuno. Quando parlavo con la società ho detto solo facciamo una cosa, ultima partita, per un momento speciale, ma in realtà non sapevano. È la mia decisione di futuro. Grazie a tutti. Da domani sono un uomo libero da questo mondo. È stata una carriera lunga, lunga. Sono orgoglioso e felice che è durata lunga questa carriera. Grazie a tutti in giro di me, che mi hanno dato forza, adrenalina e emozione di continuare. Oggi è l'ultima giornata come professionista.